Il costante incremento di atti criminali e di violenza perpetrati nelle comune di Gela continua a preoccupare le istituzioni della provincia nissena. In quest'ottica deve essere interpretato il comunicato della CGL che nell'esprimere preoccupazione ricorda come non ci si possa permettere che l'attuale situazione diventi pretesto per repressioni. Non cadiamo nell'errore, non diventiamo complici di chi vuole abbattere questa terra con atti violenti e criminali, recita la nota. Abbiamo visto e constatato con orgoglio e grande rispetto il lavoro e l'impegno di tanti cittadini che hanno portato la città di Gela agli onori delle cronache nazionali e internazionali grazie ai tesori che custodisce e che è in grado di divulgare e condividere con tutti. La segretaria generale della CGL Rosanna Moncade inoltre continua sottolineando la presa di posizione delle nuove generazioni. Le centinaia di giovani che hanno manifestato per le strade della città in segno di protesta per rivendicare un territorio libero dalla criminalità e da ogni tipo di omertà è la dimostrazione che questa terra è ricchissima di giovani che non vogliono rassegnarsi e vogliono contrastare ogni forma di violenza e di rassegnazione. Il recupero di un territorio, la sua salvaguardia in termini di sicurezza sociale, conclude, devono necessariamente passare dalla famiglia, dalla scuola, dal mondo del lavoro e diventare patrimonio comune. Grazie. Grazie. Grazie.